A ver panda de cabrones Benvenuti su questo volo con destinazione Madrid Tutti i dispositivi elettronici, compresi i cellulari, dovranno rimanere spenti o in modalità aereo A tutti i passeggeri, è il professore che vi parla Siete i peggiori spoileratori d'Italia Per questo la nuova stagione la vedrete proprio qui Nell'unico posto dove non potete connettervi e fare spoiler Mettetevi comodi Il volo durerà esattamente quanto la serie Il volo durerà esattamente quanto la serie Il volo durerà esattamente quanto la serie